Ciao, fermati un attimo, aspetta. Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà più dimenticarlo. Uno dei posti migliori per osservarlo è il Monte Grifone, uno dei monti più importanti di Palermo. Alle sue pendici sorge la borgata di Santa Maria di Gesù, che si trova tra i rioni di Ciaculli e Belmonte Chiavelli e che negli ultimi decenni ha subito diversi cambiamenti dovuti alla costruzione dell'autostrada A19. I principali monumenti della borgata restano ad oggi la Chiesa, il Convento e il Cimitero Monumentale, che risalgono al Tardo 400. Nel 1866, per via di una legge che prevedeva la soppressione degli ordini religiosi, il Convento e la Chiesa furono occupati dai militari. Durante questo periodo andarono perduti molti dei testi della biblioteca, ma fortunatamente dalle soppressioni durò poco e le strutture ripresero la loro funzione abituale. Questi edifici hanno subito svariati abbandoni e di conseguenza parecchi danni strutturali nel corso dei secoli e per questo sono stati oggetto di diversi lavori di restauro. Sicuramente adesso tutto ti sarà più chiaro, vai sempre oltre, con gli dettagli. Buona passeggiata! Grazie! 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 Grazie!